Sei un professionista? Costruisci con noi le tue competenze. Beta Formazione ti offre formazione continua inimitata per i tuoi crediti formativi obbligatori. Per qualsiasi categoria professionale, forniamo un percorso didattico completo con più di 70 corsi utili per la tua professione. I nostri corsi sono online, fruibili da qualsiasi dispositivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Beta Formazione. Scegli di crescere insieme a noi.